Best for Soil. Antagonisti microbici e agenti di controllo biologico. Informazioni pratiche. Ciao, sono Michael e in questo video spiegherò cosa sono gli antagonisti microbici e come possono essere usati come agenti di controllo biologico per controllare le malattie trasmesse dal suolo. Un grammo di terra contiene più di 100 milioni di microorganismi, prevalentemente batteri, ma anche actinomiceti e funghi. Molti di loro sono saprofiti, il che significa che distruggono la sostanza organica morta. Ma un piccolo numero può infettare le piante viventi e causare malattie alle piante trasmesse dal suolo. Questi sono generalmente indicati come agenti patogeni presenti nel terreno. Al contrario, un altro gruppo di microorganismi che vivono nel terreno può avere un effetto antagonista sui patogeni nelle giuste condizioni. Sono conosciuti come antagonisti microbici. Esistono quattro modi principali in cui gli antagonisti microbici influenzano i patogeni nel terreno. Parassitismo diretto e morte dell'agente patogeno. Competizione con l'agente patogeno per cibo o habitat favorevole o necchia. Effetti tossici diretti sul patogeno da sostanze simili agli antibiotici. Effetti tossici indiretti sui patogeni da sostanze volatili prodotte dagli antagonisti. Il compost è il risultato della trasformazione di materie prime e organiche da parte di microorganismi. Pertanto, un ammendante organico può essere estremamente ricco di microorganismi, inclusi gli antagonisti microbici. Un importante gruppo di antagonisti nel compost sono i funghi del genere tricoderma. Possono abbattere la cellulosa, un componente importante del materiale vegetale utilizzato per il compostaggio. Poiché le pareti cellulari degli oomiceti, come le specie fitoftora e pizium sono anch'esse fatte di cellulosa, il tricoderma influenzerà anche la sopravvivenza di questo gruppo di agenti patogeni nel suolo. Un altro gruppo di importanti antagonisti microbici sono i batteri del genere bacillus. Sono resistenti al calore e possono quindi sopravvivere alle alte temperature nei composti termofili. Pertanto, l'aggiunta di compost in un terreno non solo migliora le sue proprietà fisiche e chimiche, ma arricchisce anche il terreno con una potenziale schiera di antagonisti microbici. Le piante forniscono nutrienti ai microorganismi del suolo attraverso i loro essudati radicali. Pertanto, il terreno che circonda le radici, la cosiddetta rizosfera, è particolarmente ricco di microorganismi. Poiché i patogeni devono essere in contatto con le radici per infettarle, una rizosfera contenente un elevato numero di antagonisti microbici è particolarmente utile per proteggere le piante. Le cova crops e il sovescio forniscono ulteriori nutrienti ai macroorganismi del suolo durante il processo di decomposizione. Ciò aumenterà l'attività degli antagonisti microbici nel suolo. I terreni soppressivi sono terreni in cui alcune malattie trasmesse dal suolo non si sviluppano nonostante la ripetuta coltivazione della stessa coltura e la presenza di agenti patogeni nel suolo. In diversi casi, ciò è stato causato da specifici antagonisti microbici nei suoli interessati. L'isolamento e l'identificazione di tali microorganismi consente di ottenere antagonisti microbici altamente efficienti. Dopo la moltiplicazione, possono essere commercializzati come agenti di controllo biologico, o in breve, BCA. I BCA sono talvolta commercializzati come prodotti fitosanitari. In questo caso, devono dimostrare la loro efficacia nel controllo dei patogeni presenti nel suolo per ottenere la registrazione. Poiché questo processo è costoso e richiede tempo, in alcuni casi i BCA sono talvolta commercializzati come rafforzatori, stimolanti di piante, fertilizzanti organici o prodotti simili. In questo caso, la loro efficacia potrebbe non essere verificata in modo indipendente. I BCA sono spesso usati per proteggere semi o piantine da un'infezione precoce da agenti patogeni presenti nel suolo. Il principale metodo di applicazione è la semina o l'immersione di radici con BCA prima della semina. A seconda del paese, il numero di BCA commercializzati e disponibili varia. Best for Soil non promuoverà prodotti specifici, ma spera di favorire lo scambio tra professionisti in merito alle loro esperienze di utilizzo di prodotti commerciali BCA. Pertanto, non esitate a contattare Best for Soil se volete creare una community per condividere le conoscenze sui BCA.